Eccoci, eccoci, vai, vai, si ritorna, si ritorna, si ritorna, all'attacco, all'attacco Bentornati su 16 bit, si è tolta pure la musica, dannazione Bentornati su 16 bit, prima puntata, sono un po' emozionato, eh Prima puntata di una nuova stagione, quanto è bello dire nuova stagione Un termine che abbiamo rubato così di peso dalla terminologia delle serie tv Però calza e soprattutto fa figo direbbe il cantante del rock, Mick Jagger in versione barese di Non mi ricordo come si chiama il ragazzo che fa anche tutti quei ridoppiaggi ottimi Devo dire che mi fa piuttosto, piuttosto ridere Insomma, bentrovati, bentrovati al distruttore di fanboys che è un attenzionato Non so se ci è o ci fa, ma quando lo scopriremo agiremo di conseguenza Un ben ritrovato a Max Eldorado, a Sora Return Enomotokei Che un tempo riuscivo, il nome di Enomotokei un tempo mi scivolava in bocca Invece sta diventando sempre un po' più difficile da dire Perché questo vuol dire che sto perdendo l'allenamento E di conseguenza vuol dire che Enomotokei non ci segue più come prima Grave, grave, grave Nel frattempo mi accorgo di non aver gestito i livelli della telecamera Quindi speriamo, in questo momento sono acceso Sembra, sembro in procinto di essere rapito da una navicella aliena Se sarebbe bellissimo, come una mucca di Destroy All Human E continua a guardare la luce, non so perché Mi attira, mi attira come una falena Verso un lampadario Zitrovic Vero, causa lavoro, fra, ma recupero Ma ci mancherebbe altro Tu puoi fare quello che vuoi Anzi, probabilmente, meno ci segui E meglio è per la tua salute mentale Insomma, ragazzi Chi è Fabio Nats? Con il suo nome blu Quindi illegibile insieme a Arsgards Arsgards Oh mio Dio, la luce La luce Che faccio? Risolvo o la tengo? Risolvo o la tengo? Per il momento la tengo Dai, questa prima puntata di 16 bit la facciamo così Strailluminati Intanto abbiamo appena chiuso una live dedicata ad Ancestors Il nuovo gioco di Patrice Desiè È un gioco che mi affascina da morire E che spero di avervi presentato al meglio Perché è facile attaccare al simulatore di scimmia Ma che ti affasta a giocare al simulatore di scimmia? Ma non è meglio che Pasqua? Non ti dicono sempre così, no? Quelli là Sì, sarà pure meglio Però lo puoi fare anche nel simulatore di scimmia Che non è mai male Prima o poi qualcuno pronuncerà il mio nome in modo corretto Ma non è questo il giorno No, ma ci voglio provare Arsgards Asgard Asgard! È Asgard! È vero? È questo il giorno, mio caro Asgard È proprio questo il giorno È proprio questo il programma Sono proprio io quello che ci azzecca Benvenuto Asgard al 16 bit E benvenuti tutti voi Questo è il menu infame della giornata Cosa abbiamo? Abbiamo una mia foto di nome sky Che ho scattato ieri sera Cioè, guardate questa foto quant'è bella La devo mostrare a tutti L'ho messa sul reddito Solo 21 like Almeno questa mattina avevo soltanto 21 like E ne volevo almeno 150 Non ci sono arrivato Quindi la riciclo qua per il 16 bit Secondo posto! Grazie, pronuncia quasi perfetta Complimenti Asgard Asgard Com'è la pronuncia perfetta? Com'è la pronuncia perfetta? Aiutami! Scrivila! Prima o poi Vedi? Eccola Asgard Asgard, ok? È meglio? Io voglio togliere quella luce là Però mi uccide Mi uccide Guarda, ho tolto anche il fuoco Ho tolto anche il fuoco Come sto? Come vedete? Sono un po' pelucchione Sembro un cugino di quelli di Katamari Damaci Ho detto, quanto è carino Peccato che ha un po' di pelucchi Dice così di solito La descrizione Perfetta! Ottimo! Ottimo! Sapevo di esserne capace Sapevo di esserne capace Ci meritiamo un cuoricino viola Se non l'hai già dato allora Mi raccomando Se vi piace questa trasmissione Se vi piacciono le trasmissioni Del palinsesso di multiplayer Non mancate di lasciare Un cuoricino viola Che è l'equivalente Del mi piace In Twitch In modo che Possiate anche essere Avvertiti dal Sistemone Quando stiamo andando live E con che cosa stiamo andando live Perché magari stiamo facendo qualche cosa Di cui Non me ne frega nulla Ma magari no Magari no Magari vi stiamo facendo vedere Un gioco che vi interessa particolarmente Ovvio che già l'ho fatto Grande grazie Guardi di viola Multiplayer Poi Jacopo mi rompe Lo diciamo subito Seguiteci anche su Youtube Seguiteci su Multiplayer.it Che è il sito web Da cui scaturisce tutto questo E che ogni giorno Inondiamo di Articoli Recensioni News C'è veramente di tutto Da Fortnite Alle Pornostar Quindi Tutti i gusti sono coperti Ciao uomo con la scimmia Per il gioco con la scimmia Però è anche giusto L'uomo con la scimmia Perché si diceva anche La scimmia Sulla schiena Che è un termine Che Si è inventato Borrox È un po' un modo Per dire Ma vatti a leggere Borrox Che non fa male Poi che cosa abbiamo Abbiamo Spider-Man Intervallo Cazzeggio Non parliamo di Spider-Man Però Mi piace mettere una giffa animata Al centro Poi abbiamo uno Yakuza Che non doveva esserci Ma perché c'è uno Yakuza Ne parleremo dopo Per un'ultima notizia Uscita proprio questa mattina Una notizia Spreggevole Devo dirvi Spreggevole Sono disposto A bruciare la mia carriera Per combattere Contro la libertà Di Creativa E Non lo so Cioè la libertà È tutto Soprattutto in un ambito Artistico Se ce la togliamo Dalle scatole Beh siamo veramente Fritti E poi alla fine Abbiamo un Un faccione Che alcuni di voi Avranno sicuramente Riconosciuto È il personaggio È il personaggio di Two Point Hospital Seguito Non ufficiale Del mitico DIM Hospital La serie DIM Che praticamente Include due soli giochi È stata creata Molti anni fa Da Bullfrog Peter Molyneux E tanti altri Ebbe un grande successo Grazie a una giocabilità Estremamente Semplice Ma non per questo Meno profonda Ma soprattutto Grazie a un senso Dell'umorismo È un'intelligenza artificiale Di quelle Davvero che fanno La differenza Perché Parlare di Two Point Hospital Perché non parleremo Di Two Point Hospital O meglio Non solo Ma ci collegheremo Con alcuni discorsi Che ho fatto Durante Le dirette Dalla Gamescom Anzi della Gamescom Perché non ero Nella Gamescom E cercherò appunto Di rielaborarle Un po' meglio Qua Durante il 16 bit Peccato non raggiungo I livelli epici Di DIM Hospital È quello È un po' vero Ma è comunque Un inizio Molto molto interessante Verior My love Mamma mia Come faccio Io senza Verior Non mi parla più Non mi manda messaggi Non mi vuole più bene È una cosa tremenda Sono una Sono Una teenager Che scrive Verior Sul diario E mentre lo scrivo L'inchiostro Si sparge In malo modo Per colpa Delle lacrime copiose Che continuano A cadere Su quelle pagine Drammatiche Sì Sì Verior È così È così Verior È tutta la verità Nient'altro Che la verità Insomma Nome sky Nome sky C'è stato un pezzo Di Emanuele Greg Gregori Già in on page Potete andarlo a leggere Io ho sofferto Come un cane Un cane bastonato Perché ho detto Porca puttana Esisto io Come faccio A non scrivere io Un pezzo Ma 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 Lo facciamo Lo facciamo Ce l'ho anche Già bello pronto Ma nel frattempo Mi sfogo qui con voi Perché Perché Nome sky Appena Sare appena Giornato Con una nuova Mega patch Slash Dlc Chiamato beyond E ci sta dando Enormi 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 Soddisfazioni Soprattutto in vr Soprattutto in vr Ragazzi Perché Se è vero Che Nome sky Risponde Alla necessità Di un certo tipo Di fantascienza È anche vero Che questo Certo tipo Di fantascienza Ha Un certo Appeal Solitamente Verso Lo stesso Pubblico Che adora VR Quindi magari Un pubblico Grandicello Che ha vissuto Appunto Una fantascienza Immersa Dalle copertine E dalle storie Incluse Nella mitologica Serie Collana Urania Michael Schickley No Come si chiamava Michael Schickley Sì Tutta una serie Di Scrittori Che Esploravano La coscienza L'io Dei viaggiatori Che Nei modi Più diversi Riuscivano a finire In dimensioni Parallene Parallele E non Esplorando Nuovi luoghi Con nuove regole E nuove percezioni Dell'esistenza Ecco Nome sky È tutto questo Ma non solo questo Perché poi nel frattempo È cresciuto Oggi è sempre più gioco Per alcuni Persino Un po' troppo Perché Che ci crediate O meno E questo in parte Mi dà ragione C'è anche Chi rimpiange Le primissime versioni Di nome sky Però c'è da dire Che al netto Dei bug Che stanno Scomparendo A un ritmo Davvero Eccezionale Sarebbe stato meglio Non vederli proprio Ma Il team Sono 14 persone Credo che siano aumentate Un po' di più Negli ultimi tempi E che cosa stavo dicendo Ecco appunto Dei bug Beyond Che ci sta praticamente dando Una delle versioni Una delle interpretazioni Migliori Di nome sky Perché poi nome sky È sempre Dopo tre mesi È diventato gioco Dopo sei mesi È cominciato a crescere Ma Anche a cambiare In alcuni aspetti Persino radicalmente E non sempre Con quello che dico io È che questo Non è il miglior Non men sky Possibile Ma Uno dei migliori Non men sky Possibili Perché il gioco Poteva crescere In diversi modi Ha deciso Di crescere In un modo Particolare Non sempre Coeso Con il suo Con le sue Origini Psichedeliche Ma che comunque Lo rendono oggi Un'esperienza Davvero Sorprendente Soprattutto in VR Appunto Era proprio quello Di cui volevo parlarvi Perché sì Il gioco è migliorato Sì è migliorata Soprattutto La formula Matematica Utilizzata da Hello Games Per la creazione Procedurale dei mondi Che oggi Appaiono davvero Più belli che mai Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che In qualche modo In Hello Games Sean Murray E il suo team Sono riusciti A ripristinare Un senso di meraviglia Che nel tempo Nel perfezionamento Di questa Formula matematica Così potente Ma che comunque Nasconde in sé Tutti i suoi enormi limiti Creando di fatto I mondi più belli Da quando esiste Non me sky Siamo riusciti veramente A fare una crasi Da Tra la magia Dei primi tempi E quella razionalità Che serve Soprattutto in ottica Gameplay Delle ultime Espansioni Il risultato È un'esplorazione Che Più soddisfacente Che mai Più sorprendente Che mai A tutto questo Si aggiungono Anche tutta un'altra Serie di migliorie Alcune Half Cooked Che meritano Di essere riviste Forse nemmeno Meritavano di essere Live Come appunto Il cooking Perché adesso È possibile Cucinare Ma Non ha Grosse utilità E soprattutto La necessità Adesso Di collegare Gli insediamenti Le vostre basi Con Un generatore elettrico Una batteria Nel caso serva E soprattutto Di un tracciamento Di cavi Cosa che succede Anche In Fallout 4 Però in Fallout 4 Funziona meglio Paradossalmente Anche se lì Dava dei problemi Quindi l'idea è buona Ma comporta Dei maggiori limiti Di espansione Delle proprie basi E alcuni problemi Proprio a livello Di interfaccia Che rendono Particolarmente Tediosa Questa cosa qua Ma Torniamo Ancora una volta Alla VR Torniamo ancora una volta Alla VR Perché se è vero Che su PlayStation VR I limiti tecnici Di PlayStation 4 Non del casco Non del visore Ma della console Sono più che mai Apparenti Perché abbiamo Un pop-in Disastroso E un Calo Della risoluzione Da mettersi Le mani Nei capelli Però Nel frattempo Hai una roba Che probabilmente Non probabilmente Hai una roba Che non esisteva prima Un'esperienza Come quella in VR Già un'esperienza Come quella in Home Sky È un'esperienza Unica Ma in VR Diventa ancora più preziosa Ancora più unica Di fatto Non ce ne sono Di così Sì Anche Elite Dangerous Su PC Supporta la realtà virtuale Ma Elite Dangerous È l'altra faccia Della medaglia Degli space sim Più Più popolari Poi ce ne sono Altri Altri contendenti Come la serie X Su PC Che comunque Sono assolutamente Degni di nota Ma Elite Dangerous E non Home Sky Effettivamente Sono due facce Della stessa medaglia Anche solo per il fatto Che sono sviluppate Entrambi in Inghilterra Una Guildford Oddio l'altra Dove si è spostata Adesso Frontier Non me lo ricordo Ma comunque Sono anche Geograficamente Molto vicini E hanno creato Due giochi Simili Ma totalmente diversi Perché Elite È il freddo Del metallo Invece Non Home Sky È il caldo Dei colori Di un'iridescenza Anche a suo modo Drogata Quindi Assolutamente Spaziale In tutti i sensi Che bella Guildford Sei sicuro Precon Non è che è veramente Una gran cagata Questa Guildford Perché voleva andarci Pensa Fare una sorpresa Parafrasando il titolo Di una soppo Si possono definire The Cold and the Beautiful Eh sì Mi piace In Home Sky Si sentono le porte Che sbuffano di noia Ma anche di vapore Cosa che invece Non si sente Nel Nei colori A volte È anche un po' Cartoon di Home Sky Anche se Home Sky Sta diventando sempre Più realistico Anche dal punto di vista Grafico Django Chan Ciao Riciao Anzi Lo stesso pubblico Che poi solitamente Dopo gli viene la fame chimica If you know what I mean If you know what I mean Bella la serie Urania Ne ho diversi Quelli Sono bellissimi Andarsela A trovare Nei giornalai Di paese Di quelli stampati Prima degli 80 Se ne trovano ancora Viva Koji Che dice Che gli autori Non si devono lasciare Influenzare dal pubblico Che si facciano Cavalori E cagate pocate Giusto per poter Ma certo Black Certo Assolutamente Assolutamente Chi dice il contrario E' un povero bastardo Ti infibì sempre Anche quando lavoro E sono in vacanza Ci credo Ci credo Dai Allora Sconcutex Eccolo il 16 bit Finalmente No no Anzi molto Parla di Killford Precons Molto carino Come paesino Vicino Londra Se intendevi quello Si intendevo quello E' molto carino Ma più o meno bello Per esempio Di walking Perché poi C'è una bellezza Che è quasi Più legata ai servizi Che a una vera e propria Bellezza Del posto Che di solito Premia Tutto ciò che circonda Londra Insomma Perché inviare da paura? Ma perché? E' inutile dirvelo Se avete provato La realtà virtuale Sapete di che sensazioni Sto parlando Il fatto di avere Un gioco potenzialmente Infinito Che permetta Un'esplorazione Particolarmente infinita Che abbia la co-op Quindi anche la possibilità Di interagire Come solo la VR Può fare Il fatto che abbia Un base building Il fatto che abbia Dei combattimenti spaziali Il fatto che abbia Tutto questo Che venga proposto Senza nessun limite Se non due fesserie No una non è una fesseria Perché da quel che ho capito Non è possibile Cavalcare le bestie in VR Questa roba mi fa male Ma penso che La verrà aggiunta In futuro Che sia solo una questione Di quanto poi Possa dare fastidio Un probabile Motion sickness Al giocatore Perché poi hanno pensato Anche a tante piccole Accortezze Che magari Uno non se ne accorge Ma che ci sono Quindi non è un porting In VR Così Fatto in fretta e in furia Anzi È una roba Che sembra Fin da subito Giustificata Da una ricerca e sviluppo Che a volte Non vediamo nemmeno Nei team Più grandi Lo dico perché Perché per esempio Quando si atterra Senza VR Nelle stazioni orbitanti O comunque di terra Si atterra E poi la nave gira Per esempio Su se stessa Fino a quando Non si mette In parallelo Con le altre navi Adesso in VR Perché cambia In VR Questo movimento Lo fa soltanto Una volta scesi Ecco Questo è uno Dei tanti esempi Che potrei farvi Per dimostrarvi Che non è un porting Fatto in fretta e furia Ma Da quel che si era capito Anche perché La richiesta è sempre stata Fin da subito Altissima È una roba A cui Hello Games Sta Lavorando Da Un bel po' Quindi Ecco perché Sembra così Ben curata Però ci sono dei problemi Perché Alcuni comandi Sui Move Ma anche sui Knuckles Di Vive O i controller Di Oculus Non Non sono stati poi Così ben Trasposti Cioè nel senso che Ne mancano alcuni Piuttosto che Quelli Inseriti Funzionano male Perché Con i suoi limiti Anche La guida Della nave Poi alla fine Non è così male Basta prenderci un po' la mano Ma soprattutto Basta capire In che modo Mettersi Con le mani Perché Diciamo che la cloche virtuale Non va messa così In Così poggiata Dritta Sulla Sulla gamba Ma va posizionata Un po' avanti Poi inoltre Vanno Cambiate un po' Alcuni Settaggi Però questo si traduce In un'esperienza Straordinaria Perché volare In parallelo Con un tuo amico Parlarci via radio Essere attaccati Dai pirati O combattere Contro le sentinelle Mentre ci si copre Le spalle Mentre è possibile Anche persino Gesticolare In real time In questo contesto Spaziale Beh Capirete con me Che è una roba Che fa assolutamente Esplodere la testa Come fa esplodere la testa La prima volta Che vi avventurerete Sott'acqua O nelle bellissime caverne Che poi tra l'altro Le caverne sono Tra le cose A cui L'espansione Beyond Ha Dato più cambiamenti Perché Appaiono subito Molto più complesse Che mai Molto più Ricche di fauna E di Materie prime Insomma È veramente Una figata Esplorarle Soprattutto Ce ne sono Molti di più Anche Sott'acqua E questo In qualche modo Giustifica Anche la possibilità Di costruire Una base Sottomarina Che è una possibilità Che ci viene offerta Da un bel po' di tempo Però Non sempre si trova Il posto giusto Per farlo Ecco Farlo in realtà Virtuale Insieme a Uno Due Tre amici È una roba Veramente incredibile È una roba incredibile È una roba da Navigator La prima volta Che riesci a decollare Con la tua nave E sei lì E comanditi la cloche E puoi persino Sporgerti Per vedere Le ali Oppure Quando sei Con la stessa nave Sul pelo dell'acqua Di un oceano Iridescente Viola Così sotto questo sole Abnorme Di cui si percepisce Tutta la grandezza Finalmente E vai leggermente A ruotare la navicella In modo che L'ala sfiori La superficie dell'acqua Ecco E guardarsi lì Ammirare in prima persona Questa meraviglia Mentre Davanti a te C'è l'infinito Matematico Che con tutti i suoi limiti Rimane comunque Un infinito Matematico Tutto da esplorare Beh E' una roba che Cioè Secondo me Non veramente Non puoi Rimanerne Così Il tuo cuore Non può battere Come prima Nel momento in cui Tutto questo Ti si dipana davanti Il tuo cuore Davvero non può battere Più come prima Magari dopo ci si abitua Ma E' una roba che Ti esplode dentro E' una roba che Non va a sostituire Molti Molti di quelli Fissati con la VR Dicono Ah la VR Dopo la VR Non posso giocare A nient'altro Spaventando Tutti gli altri Che preferiscono Un gioco più tranquillo Meno Immersivo Ma Non è così Sono due cose Che lavorano In parallelo E Il fatto che Qui tu possa Entrare in Non me sky Nel tuo stesso salvataggio Sia normalmente In 2D Sia con la VR Senza Nessun problema Di compatibilità Beh Risponde ad esigenze Diverse Che hai In momenti della giornata O in giornate diverse A volte Non me sky Lo vuoi tutto In faccia A volte Sei te che vuoi Immergerti In tutto non me sky Ed è un'opportunità Straordinaria Soprattutto Poi su pc Dove meriterebbe Una maggiore Ottimizzazione Che sta arrivando Ma che Naturalmente Al patto di avere Una configurazione Con i controcoglioni Trasmette delle sensazioni Che Spiazzano E ti fanno Veramente tremare le gambe Perché a quel punto Hai anche Una grafica Non hai quel pop in Non hai quel Calo di risoluzione Ma hai tutta la bellezza Di un'esperienza Che di fatto Non è replicabile In nessun altro modo Nemmeno gli hippie Negli anni settanta Potranno ricreare Una roba del genere Ci arriviamo Giacomo Bianchi Ci arriviamo Che ore sono? 16 e 25 Mi dà un effetto Veramente strano Bello Che cosa? A me mette troppa ansia Andare sott'acqua Con un visore Che ansietta Che mi prende Anche quando sto lasciando Il pianeta dell'astronave Beh certo Ma è normale È normale Il VR diventerà virale Quando la gente inizierà A provare il porno VR Ma hanno già provato Però probabilmente È molto più figo Volare in Flight Simulator Che poi Farsi questa trombata In primissima persona Lì a quel punto Forse è davvero meglio Andarsi a fare una trombata Ciao fra Visto che mi fido di te Come ti sembrano Le animazioni di control Sia facciali Che i movimenti del PG Vedo che in pochi ne parlano Allora Le animazioni Questa è bella questa cosa qui Passiamo a control Passiamo a control Ok Passiamo a control Grazie di avermi dato il là Passiamo a control Se no ci dilunghiamo Sempre troppo Allora Non so perché In parte aiutato Dal fatto che sono tornato In ritardo Dalle vacanze In ritardo Non perché sono andato Oltre le vacanze consentite Ma perché Sono arrivato in ritardo Ecco Era ancora in vacanza Quando è uscito B.Y.O.G.R.E. In Home Sky Era ancora in vacanza Quando sono arrivati I primi codici Di control E niente Quindi mi sono perso Alcune cose Control L'ho iniziato a giocare Ieri mattina E Non ho ancora visto i voti Non ho ancora letto Le recensioni Non ho chiesto pareri Dai miei amici Sapevo Sentivo soltanto Greg Durante le dirette Della Gamescom Dirmi e ripetere Ma quanto è figo control Quanto è figo control Quanto è figo control A quel punto mi sono ricordato Anzi devo dire Grazie a Greg Perché mi sono ricordato Di chiamare Chi di dovere Per avere un codice Il prima possibile Perché a quel punto Ne volevo parlare Soprattutto volevo vedere Che cosa avesse combinato Remedy Che è una software house Che amo Fin dall'inizio Che ho visto Nascere E anche rischiare Di crepare Quindi questo è un gioco Particolarmente importante Per loro Anche perché è un gioco Che nasce anche Per rispondere Alle esigenze Di un mercato Che cambia Perché Perché è un gioco Che sopravvive E anche allo streaming Mentre l'ultimo Il quantum Moriva Da questo punto di vista Un po' come morto The order Per quel che riguarda Sony Sono giochi che si sono Consumati in diretta Quindi in qualche modo Le dirette Stanno Cambiando Il modus operandi Di disegnare Un videogioco Però lo stanno cambiando Anche in meglio Perché stanno Riportando il videogioco A una certa profondità Control È molto più profondo Del precedente gioco Di Remedy È molto più longevo E soprattutto È un gioco Che Mi è utile Anche per Portare avanti Il mio messaggio Il mio concetto Di qualità Perché per esempio Sono stato Attaccato Per avere attaccato A mia volta La qualità Della regia E della storia Per esempio Di Days Gone E sono rimasto sorpreso Perché penso Davvero Che sia una roba Servizievole al gioco Quindi non dico Che sia una roba Assolutamente Da buttare Ma che sia un minimo Comune denominatore Per quel che riguarda La qualità media Che uno Deba Accettare Sì Poi magari ti piace Combattere gli zombie Del gioco Moverti nella foresta Con la moto Però La recitazione La narrativa I dialoghi La regia Erano Di qualità Veramente Di serie B Ma quasi al limite Della serie C Qua Invece Questo Giochi a control E capisci quello Che ti voglio dire Almeno io spero Perché c'è una qualità Nettamente Superiore In ogni cosa In ogni Nella scelta Di ogni Posizionamento Di telecamera Durante i dialoghi C'è uno studio Dei colori Che hai Nel background Nel background Durante L'interazione Con altri NPC C'è tutto un gioco Di prospettive Che si va Che si Che avanza Che diventa Totalizzante Per poi ritrarsi Come una marea Come una marea Fa con le onde Per poi tornare Ancora più carica Insomma Ieri ci ho giocato Sei ore di seguito E non riusciva A staccarmi Un gioco veramente Straordinario Dal punto di vista Delle animazioni La tua domanda Non mi ricordo più Chi l'ha fatta Ciao ti prego Urlami Gas a martello Gas a martello Eppure l'intonazione Però la becco Cioè è talmente È talmente Di una qualità Superiore L'impianto Artistico Scenografico Di Control Non dico solo Di Days Gone Ma anche Di una buona Fetta di videogiochi Anche che magari Ho apprezzato anche Di più io Che non fa nemmeno Più ridere Perché veramente Remedy È soprattutto Stile E questo Emerge in ogni Centimetro In ogni pixel Mostrato a schermo Di Control Che dicevo Ha delle animazioni Che Secondo me Hanno Una bellezza Nell'insieme Ma che singolarmente Non fanno nulla Per nascondere Quello che è di fatto Un action game Ed è quello che succede In Max Payne Di Remedy Soprattutto di Remedy È quello che succede Anche in Alan Wake Il gioco è Un gioco Schifosamente Remedy Nel senso che C'è un'idea Di combattimento Il bullet time Per quel che riguarda Max Payne La schivata Attiva Per quel che riguarda Alan Wake I poteri Di Quantum Non mi ricordo mai Come si chiama Quantum Oddio Lo devo andare a cercare No È brutto che io Vada a cercare È giusto che io Vi mostri Ciò che non ricordo Quindi Ditelo come si chiama Quantum Maledizione E invece qui Hai Quantum Break Grazie Black Hat Qui invece L'idea È appunto Il potere psionico Il lanciare gli oggetti E manipolare Lo spazio-tempo Intorno a noi Appunto Per combattere Queste Entità paranormali Ma non c'è Ma non c'è un documento Che non sia interessante Da leggere Non c'è Un mistero Che non sia interessante Da approfondire E soprattutto Non c'è Una risposta Che la protagonista Dia E che in qualche modo Non abbia Un peso All'interno Della narrazione Ma soprattutto C'è questa Meraviglia Architettonica Che è questo Bureau Che di fatto Non ha Profondità Non ha Non ha una Fisicità Vera e propria Ma si trasforma Pulsa Cresce Si evolve E a quel punto Ti 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 soggioga Con una Con una Con un Con quello che è Un labirinto In costante evoluzione Che Fa anch'esso parte Anzi È un tassello Fondamentale Appunto Di questa Narrazione Che comunque Rimane Super lineare Come lo è il gioco Che comunque È un gioco d'azione Che trae La sua forza Da degli scontri Che è un piacere Anche Rifare più volte Proprio perché È possibile Creare più strategie È possibile Creare Più bellezza Come Max Payne Mi ricordo che in Max Payne C'è un punto in cui Inizia un livello Che Fai tre passi E c'è una guardia Che Su un'impalcatura Che dà sul vuoto Che sta lì E guarda Scrutta all'orizzonte E quella cosa lì È fatta appositamente È il primo Max Payne O forse è il secondo No mi sa proprio che è il primo Quella cosa lì È fatta espressamente Per il quick save Quick load Perché fai un quick save All'inizio E poi fai il quick load E continui ad ucciderlo In modi sempre diversi Continuavi ad ucciderlo In modi sempre diversi Anche perché era sempre diversa La caduta Grazie a quel Ragdoll Che all'epoca Rappresentava ancora una Una novità Ecco Contro tutto questo Il piacere Di rigiocare Ogni singolo scontro Ogni singola sezione Te lo dà il fatto Che quando La sua stranissima musica Perché anche la sua musica È quasi impalpabile Salvo subentrare Veramente con una forza Straordinaria In scena Quando la sua musica Inizia a pompare E te inizi A staccare Pezzi Di cemento E lanciarli Contro questi Nemici Magari nemici volanti Dotati di un dinamismo Che Troveresti Che di solito Trovi più In una cutscene Che nel gameplay Quando Poi questo combattimento Finisce con questo Con questo Uomo che fuma Che in qualche modo Riporta Anche X-Files Che però Non è davanti a te Ma sono tre versioni cromatiche Del suo contorno Del suo profilo Facilmente distinguibile Dai baffi Dagli occhiali Quando tutto questo Poi lascia Il campo A uno stanzone Costruito In questo Straordinario Brutalismo Questo concrete Questo cemento Che diventa arte Ma soprattutto Un cemento Che diventa Estremamente Malleabile Dalle proprie percezioni Da quelle del nostro Arter ego Che è un controsenso Meraviglioso Perché il cemento È di fatto La materia Meno Malleabile Di tutte Perché si spezza Si sbriciola Si sbriciola L'abbiamo visto Con il ponte Morandi No Il ponte di Genova E invece qui È malleabile È informe Pulsa Di vita propria Una vita che però Non è terrestre Ma E non è nemmeno Extraterrestre Ma extradimensionale Ed è una roba Meravigliosa Ma quante ore È lunga la campagna Non lo so Mi dicono Che se fai le side mission Arrivi a 14-15 ore Che mi sembra Più che sufficiente Ma non lo so Perché io ho giocato Soltanto 6 ore Continuate Ininterrotti Ho smesso solo Perché dovevo Giocare a Nomescaghi E io Nomescaghi A un certo punto Ne ho l'esigenza Già letta le recensioni Grazie Filmati Preferisco non vedere Visto che mi arriva In settimana il gioco Ma volevo togliermi Sto dubbio Prima di iniziare Purtroppo mi arriva lunedì Ma ho detto Amazon Essendo un Metroidvania Almeno viene descritto così Si può dire Che il vero protagonista È proprio il buro Come io ritengo Lo sia il castello In Sinfoni Beh è sicuramente Uno dei protagonisti Non è il protagonista assoluto Guarda se hai dubbi grossi Ci sono due live Di Pierpaolo Che loro L'ho raccensito per PC E lui saprà dirti di più Esatto Ci sono due live Fatti da Pierpaolo Ma è meno narrativo Rispetto ai vecchi titoli Remedy La mia paura è solo questa È molto più Bilanciata di Quantum Break Molto più bilanciata Di Quantum Break È a livelli di È più a livelli di Max Payne Nemmeno di Alan Wake Più a livello di Max Payne Darcy Ti amo i giochi Remedy Ma sia Alan Wake Che Quantum soffrono una certa Ripetività Per quanto riguarda nemici E dinamiche situazioni Dopo un po' di ore Si vedevano e facevano sempre Queste cose E spero che in Colt Abbiamo migliorato Questo aspetto Lo speriamo Fino adesso C'è una bella varietà Ok Questo l'abbiamo già letto Non ci sono più Via di mezzo Per la gente Per esempio A me De Sgonne è piaciuto Ma io a me è piaciuto De Sgonne Esatto Tu ti dici bene Black Cat È una via di mezzo Il fatto è che è una via di mezzo Mi ricorda tantissimo La versione adulta Mi ricordi tantissimo La versione adulta Di Alessandro Montesi Qual è Alessandro Montesi Non so chi sia Alessandro Montesi Lo vado a cercare Vediamo un po' Chi è Alessandro Montesi Alessandro Montesi Chi è? Fammi vedere Ah è vero Ce l'ha un po' L'imprinting Però lui si veste Molto più da coglione Alessandro Ma che stai a fare Con quel cappello Sti capelli Ma che capelli Che capelli Che cazzo di capelli Ti sei fatto Justin Bieber Ma i capelli Justin Bieber Hai visto che è diventato Adesso Un Un predicatore Di Gesù Cristo Ma stai Stai attento Spero che si sia tolto Sti capelli Ma come se li hai fatti Bianchi Metrosexual E' carino Dai Si è vero Ricorda un po' E ricorda Ricorda Speriamo che Questo volto Da fanciullo Venga scolpito Al più presto Dalla vita E' anche quello Il bello Tipo l'esigenza Che sento io Ora Di che fare Blackhead Sì ma fare Le guest star In quel postaggio In mezzo Ad Euclide Non so di che cosa Stai parlando Ah Sì perché farò Una diretta Naturalmente farò Una diretta Giustamente Me lo ricordano Non mescai Italia Parteciperò Venerdì sera Dopo il cortocircuito Quindi sarò Ridotto uno schiavo A nightclub The procedural Venerdì 30 agosto Alle 21 e 30 Canale di Boosterdog Che avete visto qua Commentare Ci sarò Anche io Con la partecipazione Straordinaria Dice Ci sarò anch'io Ci sarò anch'io Quindi Ci divertiremo Non so Io non Non voglio sapere nulla Entro nella tua partita Fai te Portami per mano Possiamo anche fare All'amore Sotto la volta celeste Quindi sono A tua disposizione E' molto divertente La cosa per info E prenotazioni Chiamare al numero 1616 1616 1616 E aggiungerei anche Secondo te I fan Remedy Potrebbero amare Di più o meno Questo titolo Rispetto ai vecchi progetti Secondo me Di quanto Breck Di più Cioè Quanto Breck Secondo me Aveva La sua idea forte Aveva i suoi Bei personaggi Però Era sbilanciato E soprattutto Non era al passo Dei tempi Cioè Non era più un gioco Che potevi vendere A prezzo pieno E soprattutto Non era più un gioco Che potevi acquistare A prezzo pieno Mentre qui Sei ritornato A Offrire un'esperienza Che è Soprattutto Gioco Ma soprattutto All'altezza Di quelle che sono Le aspettative Dell'utente Medio Dell'utente Medio Direi di passare Al prossimo Argomento Grazie Mentalista Vedete Chi mi conosce Sa che poi Mi spingo Un po' Troppo Avanti E quindi Mi esortano A cambiare Argomento Argomento Che mi sono Anche dimenticato Qual è il prossimo Kazuma Io ho la forza Di giocare in VR Perché comunque Per fare anche Gli streaming La VR ce l'ho In ufficio Quindi devo portarmi La console appresso Ieri comunque Stavo a casa Non avrei mai Abbandonato il divano Per niente al mondo Quindi a un certo punto Ho cominciato a fare Dei salti Sulle partire Dei miei amici Prima ho giocato Con Max Che prima era Anche in chat Mi ha fatto Iniziare a normale Non iniziavo a normale Da almeno Un anno e mezzo Se non due anni Da quando di fatto È stato introdotto Il survival Però poi alla fine Siamo divertiti Perché poi abbiamo trovato Lui era bloccato Su questo primo sistema Di pianeti bruciati Ma c'era questo Terzo pianeta Davvero molto bello Con questa Sembrava avere Un'antica civiltà Un po' Alla Un po' sudamericana No? Un po' Mezcal Tutta costruita Sulle alture Che Davano la forma A quello che Di fatto Noi interpretavamo Come un vero e proprio Fiume Poi sappiamo che Nome Sky Non sopporta I fiumi Ecco Ma solo Specchi d'acqua Più o meno grandi Però in qualche modo La proceduralità A volte Ne crea alcuni Oppure Ne crea Crea Degli specchi d'acqua Che sembrano ricordare Da molto molto vicino Dei fiumi Molto bella Quell'esplorazione È stato molto bello Poi saltare Nella partita A sorpresa Di Edoardo Altro mio amico Che vedevo che stava giocando A luna e 44 Sono arrivato È sempre molto bello Quando vedi a sorpresa Peccato che dica il messaggio Però a volte non te ne accorgi Da tutti i messaggi che hai Quindi gli ho parcheggiato Da dietro Ho visto lui che ha smesso di Stava Prendendo dell'oro Se non sbaglio Da una miniera Si è girato Mi ha salutato Un po' sorpreso E stava su una luna Meravigliosa Che mai vista prima Personalmente una roba del genere Fantastica Gioco a Nome Sky Ho 500 ore alle spalle Ci gioco dal lancio E una luna così Non l'ho mai vista Veramente bellissima C'era lui tutto intento A riparare un'astronave Non era mai uscito dal primo sistema Ma stava cercando di riparare Totalmente un'astronave Quasi di altissimo livello Bellissimo è stato Anche perché poi Ne ho approfittato Dalla compagnia Per fare a mia volta Delle riparazioni Molto molto bello Parcheggiato da dietro Così andiamo per 18 Comunque il primo Max Payne All'epoca Ma quanto era avanti Che gioco incredibile Beh assolutamente Era almeno 5 anni avanti Ma di fatto Rayel Ciao 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 Ben trovato In questa seconda Stagione di 16 bit Che mi vede iniziare Un po' così Arruffato Mal Illuminato Però Di che cosa Mi devo vergognare Se inizio a vergognarmi Delle occhiaie Che entrano Che entrano in scena Per colpa dell'illuminazione Fra 3 anni Mi faccio di botox E fra 5 Mi faccio la plastica Quindi Va bene così Va bene così Quello che vedete È una Elevata Dipendenza Professionale Al videogioco La roba successiva Con Yakuza Ridicola È come censurare La storia Giusto Black Hat Che mi esorta Ad andare avanti Così Gentilmente Praticamente Che è successo Yakuza 3 Avrà Yakuza 3 4 E 5 Avranno dei contenuti Tolti Toglieranno dei contenuti Per rispettare La nuova sensibilità Occidentale Sui temi LGBT Che sappiamo tutti Vuol dire Latus Gay Bacon Entomato No A parte Gli schemi Perché no BLT È un Sandwich Molto famoso Anglosassone Bacon Latus Entomato Per andare incontro Alla comunità LGBT Ma capisco Che sia anche Una Una volontà Virtuosa Quindi Complimenti Il problema è che Tu non puoi fare una cosa del genere Non ti puoi permettere Di tagliare Contenuti originali Se quel gioco esiste Io Utente Devo scegliere Se è Se è una roba per me Se è una proposta valida per me Se non lo è Se tratta Temi che a me danno fastidio Non lo compro Non vengo Non devo rompere il cazzo E farti cambiare quello che tu hai fatto Tu autore Torniamo a Kojima Non devo rompere i coglioni Ma soprattutto Te publisher Non ti devi vergognare Di quello che hai già distribuito Sei uno stronzo Non ti devi permettere Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non è che vado a proporre La divina commedia In Qatar E tolgo il girone Dei lussuriosi Ok? Perché In Qatar Si offendono Sti cazzi Loro si sono fatti La loro Civiltà In Qatar Hanno le loro regole Io le rispetto Non potete rompere il cazzo a me Voi LGBT Siete convinti Di tutto quello che Sia Politically correct Va Più che bene Alla fine No? Portare Alla luce Quelle che sono Delle problematiche Ma state attenti Ne abbiamo fatto L'abbiamo fatto mille volte Questo discorso Lo fanno In tanti Non sono né il primo Né sarò l'ultimo Probabilmente sì Perché poi alla fine Tornano tutti con la coda In mezzo Tra le gambe Perché si spaventano Perdono Spettatori Perdono like Ma come fai? Come fai a barattare like Spettatori Per la libertà creativa Come fai? Perché poi questa è la democrazia Hai votato Ti riempi la bocca di democrazia Ma rompi il cazzo su ogni cosa Non ti va bene Nessun risultato elettorale Se non è quello che Ti dicono Che ti debba andare bene Non Fa schifo così ragazzi Fa schifo Io voglio scappare Da questo mondo occidentale moderno Voglio giocare Yakuza 3 Dove ci stanno le dominatrix Con gli strapon Lo voglio fare Se è stato fatto Nessuno deve decidere Per me Cosa è giusto E sbagliato Io debba giocare Vedere Ascoltare Cazzo E poi vanno bene Ste robe De sta musica black Che in tempo L'hip hop Era bello C'avevi Eh che cazzo Quelle erano belle Dottor Dre Parlavano di tutto Di fratellanza Mo sono solo gioielli Cazzi duri Culi I rigidi Ma basta Quello fa schifo Quello fa schifo Non Con una roba Costruita in un contesto Gangster Con un uomo Che secondo me È un esempio Di uomo Che tutti gli uomini Dovrebbero essere come Kazuma Kiryu Quello è l'uomo Quello per me È l'uomo Se ci deve essere il gay Ok Il gay Fa il gay Mi va benissimo così Ma se ci deve essere Un archetipo di Non è che dobbiamo Debellare l'uomo E Kazuma Kiryu È la quintessenza Dell'uomo È la quintessenza Dell'uomo Kazuma Kiryu Un po' Kenshiro Un po' Mario Merola Perché poi Yakuza è anche Dannatamente Neomelodico Porca miseria Porca miseria Ah Che cosa sto guardando È più bello di Ciao Darwin Ora cambio titolo Alla live Xp Live più 18 Ma non so di Vedi Baymax Che a volte ormai Uno si vergogna Persino a dire una cosa Dice Cavolo Questa forse è una cosa Che non dovevo dire Ma poi non è vero Non è vero È un È un'accortezza Che abbiamo soltanto oggi È logico che io Ho i miei limiti E sono dei limiti Che penso Rispettino Le linee guida Di multiplayer Di Twitch Non vado oltre Ma sono dei limiti Che mi impongo E sono di buon gusto Non sono di Di quello che posso dire Non posso dire O giocare O non giocare Eccetera 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 No no Ma Baymax Lo so che era una battuta Però È che a volte È che a volte Lo penso anch'io È che a volte Lo penso anch'io Ma posso dirlo Cazzo sì che posso dirlo Ma come non posso dire Ma che sono decerebrati Questi qua Che poi Vai a vedere Fanno le peggio schifate A 14 anni Ma che cazzo Un po' In Shiro Un po' Mario Mero Non lo metterei Come sottolineo Sulla copera del gioco Darth It Guarda mia Sì Sì Anche perché Il pubblico di Yakuza È un pubblico adulto Quindi In Italia Lo potresti mettere Lo potresti mettere Secondo me È un selling point Perché è vero Di fatto È vero Criminalità Mario Mero Like in Shiro Ci hanno sempre Avuto a che vedere Combattimenti Ci sono Sparatori e cose Cuore, amore E un jeans e una maglietta Quello è Nino D'Angelo Ma ci sta anche quello Quindi Gli ingredienti Sono quelli Ci vorrebbe Il rantolo Tipo Roberto da Crema Filo Anche un po' Nino D'Angelo Esatto Poi ci sono arrivato Hai visto Che co-cool Ho una domanda Secondo te Un ragazzo Lavorato in architettura Come puoi iniziare A entrare nel mondo Del lavoro In ambito videogame Che percorso Si può intraprendere Beh Kingios È una bellissima domanda Perché poi L'architettura Sta ricoprendo Un ruolo Sempre più importante Nel mondo Di videogiochi Anche perché Il mondo di videogiochi Ormai richiede anche Uno scouting Di location Esattamente come Il mondo del cinema O Ancora meglio Per un architetto La necessità A volte Di creare Intere città Che abbiano Più architetture Che siano Coese Realistiche All'interno Nel stesso gioco Quindi Cioè Secondo me L'architetto Oggi Nel mondo Di videogiochi È davvero Una figura Importante Quindi E lo sarà Sempre di più Studia di qualche cosa Guarda Guarda anche Control Control è Saprai appunto Del brutalismo È tutto costruito Sul brutalismo Che è Sicuramente Un coprotagonista Del Del Delle emozioni Che Control Poi cerca Di far confluire All'interno All'interno Del giocatore Quindi È l'architettura Messa in primissimo piano Guarda anche Quello che fanno In Rockstar Secondo me È straordinario In Detroit Quindi anche I lavori Di Quantic Dream Sono Da tenere d'occhio È Fighissimo È fighissimo Secondo me Semplicemente Devi Imparare Ad utilizzare I tool Giusti E soprattutto A Sviluppare Una certa Un certo Feticismo Per I Materiali La grammatura Dei tessuti Questa roba qua È molto importante Se la vuoi far Confluire All'interno Della tua Lo so che L'architetto Fa altro Però Meglio avere Più Più abilità Possibili Com'è Impara l'arte E mettila da parte Secondo me In un contesto Videoludico Nel momento in cui Vai a costruire Un Una struttura In cui poi il giocatore È chiamato A viverci O a comunque Interagirci All'interno È importante Anche avere Una certa idea Degli spazi Come cambiano In prima e terza persona Di come poi Questi Interessano Il gameplay Molto importante In Cyberpunk 2077 La scelta della prima persona Che è una scelta Di fatto Che nasce Dall'esigenza Di creare Uno shooter All'interno Di un fottio Di strutture Cioè Prevalentemente All'interno Piuttosto che All'esterno E lì quindi L'architetto Che cosa ha dovuto fare Ha dovuto ingrandire Il tutto Per poi creare Abbastanza spazio Per dare modo Alle abilità Di respirare Quindi è un discorso Esattamente interessante Molto bello Sarebbe bello Chiacchierarne Davanti a una birra Prima cosa Esci dall'Italia Non è vero Rimani Rimani fino all'ultimo Poi quando vedi Che tutto va a puttare Te ne vai Ma intanto ti sarai Costruito la tua base Rimani in Italia Cazzo Si rimane in Italia Ma nel caso scappi Ok ma rimani Rimani fino all'ultimo Provoci fino all'ultimo Non è detto che ti deluda Non è detto che ti deluda Quindi posso mandare Un curriculum a remedi Beh sì 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 Assolutamente Perché no Perché no Naturalmente Forse dovresti un attimo Iniziare un po' più in basso Però perché no Comunque è colpa di Vincenzo Che noi mod siamo così puritani E beh sì Ma siamo d'accordo Ma ripeto È colpa anche mia Perché Baymax Alla fine uno Ste paure Se le fa prendere Certo che lo puoi mandare Tanto non ti rispondo Non è mai detto Non è vero Guarda che di solito Le aziende serie straniere Rispondono tutte Rispondono tutte Non è come in Italia Appunto Vogliamo parlare di cose brutte italiane Che nessuno risponde No? Fino a quando non vieni preso Ecco appunto In quanto a non rompere le balle A me la prima persona Non piace tanto Ma se proprio devo Non lo compro Non vado a rompere le balle Che andate a forza Sì Black Hat Anche se trovo folle A meno che proprio la prima persona Non ti dia dei problemi fisici Rinunciare a un'opera Che non dico che sia Cyberpunk Ma una qualsiasi opera Che si pronuncia straordinaria Rinunciare per la telecamera Mi sembra veramente Estremissimo Però lo posso capire Magari uno si sente male Magari E che a volte Probabilmente Non c'è davvero Cioè la prima persona È obbligata proprio Ecco nel caso di Cyberpunk 2077 È obbligata Non c'è nessun dubbio A riguardo Non è come GTA Che entri in due Tre case Per 60 ore di gameplay E poi alla fine Siamo arrivati alla fine E poi alla fine Siamo arrivati alla fine Che cosa ho detto Non lo so nemmeno io Ma devo riprendere anche Un po' il 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 ritmo Arriviamo alla fine ragazzi Perché Two Point Hospital Perché la Gamescom È stata una Gamescom Segnata Dal ritorno Dello strategico Gestionale AAA Che per me È una roba Meravigliosa Anzi sono stato Anche redarguito Perché Troppo eccitato Dall'idea Di un Appunto Kerbal Space Program 2 E soprattutto Infastidito Ecco cosa è successo Mi sono infastidito Quando la gente Ha sminuito Un annuncio Come quello di Kerbal Space Program 2 Come poi è successo Alle 3 Durante la conferenza A Microsoft Quando hanno presentato Flight Simulator Questa cosa qua Mi fa incazzare Perché Non vedo Il motivo Per cui una conferenza O comunque Un momento In cui Vengono comunicati I piani futuri Di una Di una compagnia In questo caso Specializzata In divertimento elettronico Non vedo perché Questo messaggio Deve piegarsi E ritorniamo A quello che ha detto Kojima Ma quello che ripeto Io da sempre Deba piegarsi Alle esigenze Del pubblico Più rumoroso Che è poi Quello che Vorrebbe AAA Mazzetta E Mi viene a scrivere Durante le dirette Di Ancestors Ma cosa vuoi Infiocchettare Questo gioco L'hanno massacrato Tutti Una persona Che ti viene Durante la diretta Di Ancestors A dire una cosa Del genere Una persona Che non è interessata A un gioco Del genere Non sa un cazzo Del gioco Del genere Che cosa vuole dire Non si spiega Cosa vuole fare Magari vuole Semplicemente Fare casino E questo Lo puoi scusare Soltanto Se è molto giovane Però a volte È semplicemente Un coglione E questo Non va bene Nel senso che Kerba Space Pro Ma poi Soprattutto Perché Perché non va bene Perché a volte I AAA Festeggiano I 5 milioni Di copie Di vendute Ma Questi strategici Qua A cui spesso Si ride dietro O che spesso Vengono Così Subito Archiviati Come roba Di poco conto Arrivano a vendere 10 15 milioni Di copie Ci sono serie Che hanno Numeri Che fanno Annichilire Molti dei giochi Più Famosi Di Di un qualsiasi Big publisher Che vi venga in mente Electronic Arts Come anche Ubisoft E che Il più delle volte Questi dati Di vendita Non vengono Registrati Da Tutti quelli Che di solito Dispensano Mensilmente O settimanalmente A seconda Della regione Appunto Le classifiche Di vendita Di giochi Più venduti Di recente È stato NPD Che è Quello che si Occupa di Allestire La classifica Di giochi Più venduti In nord America Ha Praticamente Distribuito I dati Per la prima volta Uniti A I giochi Digitali E lì abbiamo Visto una roba Allucinante Abbiamo visto City Skyline Essere Uno dei giochi Più venduti Del mese Nella top ten Se non sbaglio Era Sesto Quinto City Skyline Allora È vero È vero Che era In super sconto Costavo tipo 3 euro Ma City Skyline Ha già venduto 7 milioni di copie E soprattutto Tu non entri Al quinto posto In classifica Se comunque Non sei un prodotto Interessante Puoi essere anche Gratuito E lo vediamo Con i giochi mobile Ma non entri In classifica Non ti metti A sgomitare Con Mario Kart Deluxe O Che ne so Monster Hunter Per Playstation 4 Xbox One E PC Se sei un prodotto Di poco conto No Sei un prodotto Della madonna Sei un prodotto Che vende 6 7 8 9 10 milioni Di copie Sei un prodotto Che è stato Gettato Nell'indifferenziata Da Colossali Errori Fatti Da colossali Coglioni Come Lo è stata In passato E continua Ahimè Continua Ancora ad esserlo In alcune occasioni Electronic Arts Distruggendo Maxis Cioè Ma tu davvero Non riesci a stanziare Un budget Per fare in modo Che Maxis Costruisca Un nuovo SimCity Che vada In 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 positivo Sopra 3 milioni Di copie Davvero Non ci riesci Beh Mia cara Aziendona Dei miei Coglioni Mi sa che hai Un problema Di management Mi sa che hai Un problema Di management E se hai Un problema Di management Lo sapete Qual è il motivo Probabilmente Perché il suo CEO Il suo Gran presidente Non si è giocato Qualche gestionale Non si è giocato Qualche bel gioco Gestionale Che Magari Probabilmente Gli avrebbe Spiegato il mestiere Meglio di Qualsiasi Università Perché poi Avrebbe anche Videogiocato Cosa che molto spesso Queste Queste figure Chiave Non fanno Da Fin troppo tempo Avallando prodotti Del cazzo E chiudendo Invece Robbe che Magari Arrivano al loro Minimo storico 3 milioni di copie 2 milioni di copie Ma che poi Come tutti i generi Sono ciclici I generi sono ciclici Oggi i picchiaduro Sono al massimo Al top Lo erano Ai tempi di Sulfader 2 Poi comunque Si La gente si interessa Ad altro Ma questo non vuol dire Che i picchiaduro Non siano più Un business Positivo Ma comunque Anche se non lo fossero Tu lo tieni in piedi Aspettando Il prossimo La prossima occasione Per poter tornare A sfornare Giochi ad alto budget Che è poi Quello che è successo Ma grazie agli indie So gli indie Che hanno tenuto La fiamma del gestionale Dello strategico Accesa Proteggendola Dalle intemperie Oggi Fortunatamente Quella fiamma là Sta riprendendo vita Sta riprendendo vigore Sta tornando Ad illuminare La caverna E a riscaldare L'ominide Visto Che abbiamo parlato Di Ancestor Mi sono Ricollegato Ed è una gran figata Che Sega Investa così tanto In Total War Adesso nel prossimo Humankind Che sono gli stessi Poi di Appunto Sono gli stessi Di Infinite Legend Oddio Untold Legend Quindi un indie Che ha tenuto in vita Questa roba qua È importante Ed è bellissimo Che questa roba qui Abbia sempre più successo Perché poi Questo vuol dire Che Gli sviluppatori Si impegneranno di più A creare Dei porting Console Che a volte Magari Non possono di fatto Riuscire Per i limiti Tecnici Delle console Ma a volte Vengono anche tirati via La possibilità Di Di creare Interesse Anche Da parte Del pubblico console Che è un pubblico Che si È di per sé Un po' schiavo Del AAA Proprio perché L'ecosistema console Spinge a questo Beh Anche quel pubblico là È giusto Che venga messo Nelle condizioni Di riscoprire Quello che è Un Un genere importante Anche perché Come ripeto sempre È un genere Che Alimenta passioni Tu non sai Veramente Un Sono assolutamente convinto Ma ho parlato anche con Psicologi E Gente che Comunque lavora Nel In un ambito Pedagogico Quanto sia importante Poi alla fine Che i più giovani Provinano questi prodotti qua Perché poi Veramente possono Scoprire Una Un indirizzo Un indirizzo di vita Non soltanto Di divertimento Quindi magari Una roba che C'è un buon gioco gestionale Li spinge Sicuramente a cercare Altri giochi gestionali Ma probabilmente Li spinge Anche a Creare Quel puzzle Di interessi Che poi In futuro Probabilmente Ti indirizzerà Anche verso Una facoltà universitaria Che magari Senza Questo background Non avresti Non avresti Nemmeno preso In considerazione Ecco Sono importanti Perché sono giochi Intelligenti E soprattutto Sono giochi Che spingono Anche a A una ricerca Che va Oltre il videogioco Perché a volte Ecco Kerbal Space Program Mi ha portato Sui libri Di storia Mi ha portato Sui libri Che spiegano Come funziona La navigazione In un contesto Tridimensionale E senza Un alto E un basso Senza un destra E un sinistra Come è quella Spaziale Ed è questo Che la rende Così diversa Poi dal Dal volo Terrestre Ecco Quello degli aerei Comuni Fatti mandare Il codice Di Kerbal Appena puoi Che voglio vederti Sganciare i booster No Giacomo Bianchi Ho già fatto Delle dirette Con Kerbal Kerbal 2 Non sappiamo Credo che uscirà Il prossimo anno Di quali giochi parli? Buongiorno Tsuki Yogodo Di molti giochi gestionali Che oggi Hanno un po' Perso appeal Ma stanno tornando Più Prepotentemente Di prima Kerbal Space Program È uno di questi Che ho appena citato Ragazzi Due secondi di domande E poi lascio la linea A chi viene dopo Gli indie sono come All Might A me i giochi Yakuza mi fan cacare Distruttore di fanboy Nessuno è perfetto Men che meno tu Che sembri Davvero Pieno di difetti Altro che Nuova P Meglio sali di più Va bene Stronzate E averle perle Come Ancestors Questa è una cosa Intelligente Parlando di Ancestors Giochi simulativi e strategici Il Politically Core È sempre più presente Ma qualcuno di voi Ricorda Black and White Se qualcuno ad oggi Volesse provare Sarebbe difficile Poterlo fare Perché dici Per la parte religiosa Ma no Dai non credo Questo no Fortunatamente Ciao Francesco Volevo chiederti Questo è Gabriel86 Come mai a Switch Perdonano un po' tutto Mentre sulle altre console Vanno a fare i pulci su ogni cosa Su Switch escono Giochi in 720 Come Asal Chain E va bene Gabriel Risponde Cioè Rispondendoti Ti offendo un po' Quindi Forse sarebbe il caso Di non risponderti Cioè La risposta è chiara La risposta è chiara Perché io gioco a Civilization Su Switch Quando posso giocarci su PC Perché ci gioco Quando non posso giocarci su PC E soprattutto Switch Te lo metti in tasca Quindi i 720 Quando hai uno schermo così Sono Un limite No Non lo sono Quindi Va più che bene così Nel momento in cui giochi a Zelda In montagna Mentre sotto fanno lo yodel Dirirai Dirirai E tu stai lì Che Esplori Non lo so Uno shrine Che non hai mai visto Allo 200 ore Ti viene il durello E hai tutto il diritto Di fartelo venire Ragazzi Ti piace Jurassic Park Evolution Il gioco Quello Frontier Sì Peccato che non abbia Una grossa sfida Ma mi è piaciuto Molto La mia sfida è stato Quello di Completare al 100% Tutte le isole che ho fatto Mi mancano due isole L'ho lasciato alla terz'ultima isola Però tutte le altre L'ho fatta al 100% Mi è piaciuto un bel po' Peccato che gli manca Quel guizzo Che lo renda un po' più complesso Aspetto lo Zoo Tycoon Di Frontier E soprattutto Mi piace molto Anche se là pure Gli manca Quel brivido simulativo Un po' più Cattivo Il gioco sempre di Frontier Dedicato ai parchi Di divertimento Che da un bel po' Che non aggiorno E carico Magari ci facciamo Anche una diretta Ragazzi Grazie di tutto Lascio la Ma non c'è nessuno Dopo di me Ma hanno detto Che c'era Sto mondo e quell'altro Ma non è possibile Va bene Chiudiamo uguale Chiudiamo uguale Questa è stata La prima puntata Di 16 bit Un 16 bit Che finalmente Durerà Tutta la stagione Quindi non vi lasceremo Sul più bello Mi raccomando Continuate a seguire Il canale Twitch Di Multiplayer Ma non solo Anche quello YouTube E anche tutti gli altri Perché poi Oggi qual è Il menu Alle 19 c'è Apex Legends Con iBob E poi alle 21 Control Con Kodomo Yuki È bellissimo Ieri mentre provavo Control Pensavo proprio A Kodomo Yuki Che non conosco Personalmente Però trovo Che sia un gioco Estremamente adatto a lei Non perché la protagonista È una donna Cazzutissima Se poi adesso Questa roba Si può dire Non perché non sia Politically correct Perché proprio Non c'è collegamento Fatto sta Perché comunque È un gioco Figo Che voglio vedere Giocato da Kodomo Yuki Quindi probabilmente Me la vedrò anche Quella diretta E niente Ragazzi È tutto Alla prossima settimana Ma naturalmente Ci rivedremo Ci rivedremo domani Dopodomani E probabilmente No Sicuramente venerdì Perché tornerà il cortocircuito E tornerà anche Pierpaolo Greco Uffa Poteva rimanere a colonia No Sto scherzando Dai Pierpa Vieni che facciamo Un corto Che mi ha lasciato Tutti questi Giorni Così da solo Anche se da solo Non ero Perché c'era Giordana Mitica Giuliana Sì Giuliana Mitica Giuliana Mitica Giordana Diceva proprio lei Che sbagliano sempre Il suo nome Mitica Giordana E soprattutto Mitico Greg Che mi hanno Sostenuto E soprattutto Mi hanno contenuto Perché poi io esagero E E strabordo Ciao Ciao Ciao